camille grandissima prestazione della lube era difficile vincere contro questa trento in un ambiente anche molto caldo sì soprattutto anche in casa di trento però poi penso che oggi è stato forse un po più più facile perché abbiamo avuto il sette giocatore nostri tifosi chi sono venuti oggi tanti e penso che sicuramente ha aiutato a me una lube grandissima sette una bellissima che mette sette punti con la seconda in classifica al termine del girone di andata 12 partite vinte su 12 un grandissimo esplorato sì bellissimo penso che possiamo adesso essere molto contenti però è solo questo è la metà di campionato adesso dobbiamo comunque pensare a tenere che questo livello